Gennaio è agli sgoccioli e le elezioni sono ormai dietro l'angolo. Il centrodestra non si mette d'accordo e il centrosinistra non trova la quadra. Le grandi coalizioni non hanno un candidato che sia uno, mentre il solco fra le parti si fa sempre più ampio. Di solito è in questi momenti che succede qualcosa di straordinario e inaspettato. E Bassano non fa eccezione. Mentre tutti litigano, ritorna in città la democrazia cristiana, ovvero il centro, quello per così dire certificato. A presentarli in anteprima è un volto noto della politica bassanese come Luigi D'Agro. L'ADC è il prototipo storico del centro, ma dobbiamo anche stare attenti a che cos'è il centro. Non è né un luogo fisico né un luogo geografico, soprattutto in politica. Il centro è una forza di attrazione in politica e cioè è una grande proposta che attrae a destra e sinistra e ovunque c'è buon senso. In quell'ambito la democrazia cristiana è riuscita a governare per oltre 35 anni. Quello bassanese è un centro che porta in dotte esperienze, ma non solo. Qui e ora servono le idee per dare nuova linfa a Bassano. Il tema fondamentale quindi è che in questo caso noi vogliamo essere centro, ma in termini di attrazione. Non lo saremo inizialmente per forza, ma vorremmo esserlo per idee. Una domanda su tutte e per tutti. Con chi parla l'ADC oggi? Si parla con tutti in politica, perché la divisione che c'è stata in questi anni è che chi era dall'altra parte era un nemico, un avversario. Invece è uno che in qualche misura è la controparte di sé per creare insieme il bene comune. Molto e troppo individualismo, poco capacità di mettere insieme anche su grandi progetti lì nei comuni. Viene naturale chiedersi quindi se si tratterà solo di un concorso di idee per una città nuova oppure se la democrazia cristiana proporrà una lista propria. La logica solo culturale può servire per l'opinione pubblica, ma tanto per intenderci la politica ha bisogno di consenso, quindi credo che a Bassano presenteremo la lista. Il dado è tratto, cambia lo scenario e in tanti si domandano cosa accadrà con questa nuova partita. Che cosa può capitare a Bassano del Grappa dipende molto dalla capacità che ci sarà in questo spazio di tempo molto breve di fare innamorare un'altra volta di una proposta politica che abbia e produca senso?